Solo su. Al Friuli di Udine inizia il tour de force delle partite spareggio. Vi ricordo dello scorso campionato a legge sul campo, sino a quando Borgonovo con questa provezza porta in vantaggio gli azzurri, che tengono il campo in maniera quasi perfetta, ma quando meno te l'aspetti, Miano con questo gran gol porta in parità i bianconeri. Che si portano poi in vantaggio con un calcio di rigore concesso dal signor Lobello e trasformato da Edigno. Ma il Como non vuol perdere, riparte l'attacco e Borgonovo riaquanta il risultato chiudendo una splendida ed utile doppietta. Il pareggio si è meritato, sul fallo del rigore io ho protestato, lui mi ha...